Ciao ragazzi, sono Laura e benvenuti su questo canale. Pinzettare e rasare sono parte della routine di bellezza di ogni donna. È qualcosa che la maggior parte di noi hanno fatto per anni, ma facile non è la parola che viene in mente. La maggior parte di noi trova il processo fastidioso, doloroso e richiede tempo. Non preoccuparti, AIMUSAV è qui per aiutarti con una soluzione precisa e indolore, per rimuovere i peli del viso a casa. Vedi cosa ho in mano? È AIMUSAV MV300, rimozione professionale dei capelli facciali. Come tutti sappiamo che ci sono molti rasoi facciali sul mercato che può essere utilizzato per tagliare i capelli facciali. Perché vuoi ancora introdurti a questo prodotto? Si tratta di vantaggi competitivi. Per rimuovere i peli del viso indesiderati in modo rapido, preciso e indolore. Testa galeggiante a doppio annello per una rapida e confortevole depilazione del viso. 18 carati lama ipoallergenica placata oro. Il led bianco caldo a 360 gradi si illumina tutto intorno alla testa della lama, per un facile utilizzo in tutte le condizioni di illuminazione. Design compatto, cosiddetto dimensioni rossetto, ottimo da portare in borsa. Batteria ricaricabile a ioni di litio USB. Il dispositivo di rimozione dei capelli iMustaf Professional Facial è uno strumento di bellezza di alta qualità, veloce e conveniente e in grado di fornire una soluzione a lungo termine altamente efficace per i vostri problemi di peli facciali. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il rasoio. Inserire l'estremità micro USB del cavo o di ricarica nella porta di ricarica USB situato sul fondo del rasoio. La spia LED di ricarica diventa rossa mentre il rasoio è in carica. Al termine della ricarica, la spia di ricarica si spegne. Come usare il trimmer facciale? Rimuovere il tappo, premendo su un lato del tappo. Far scorrere l'interruttore situato sulla parte interiore dell'unità nella posizione ON. La lunetta illuminante a LED da 160 gradi integrata intorno alla testa si accende automaticamente per consentire una chiara visibilità dei peli fini. Premere delicatamente la testa dell'unità contro la pelle. L'unità dovrebbe non essere su un angolo. Procedere facendo piccoli movimenti circolari per rimuovere peli superflui. Quel look pulito, liscio e fresco può essere il tuo look da trucco. Prendi il tuo iMousse Professional rimozione dei capelli del viso per vedere i grandi benefici te stessa. Aumenta la tua sicurezza e goditi la tua nuova pelle liscia con il nostro strumento di bellezza professionale. Ultimo ma non meno importante è facile da pulire. Ok, riassumo i vantaggi di questo prodotto. Niente graffi, niente tagli, niente capelli incarniti. Non solo è il Professional Facial Hair Removal 100% indolore, ma a differenza di un rasoio standard, è possibile rimuovere i peli del viso senza graffi, tagli o peli incarniti. La pelle del nostro viso è ultrasensibile e il nostro viso ha contorni e curve che rendono la rasatura tradizionale una sfida. Utilizzare ovunque, in qualsiasi momento. Puoi usare il tuo nuovo depilatore per il viso su una faccia pulita all'inizio o alla fine della giornata, oppure puoi metterlo nella borsa per usarlo ogni volta che sei in giro e noti uno o due capelli randaggi. Sicuro per tutti i tipi di pelle? È sicuro per tutti i tipi di pelle, compresa la pelle sensibile. La punta placata oro, 18 carati, è ipoallergenica e aiuta a prevenire le irritazioni e le allergie cutanee. Elimina i peli con precisione senza dolore. La testa del dispositivo non è tagliente, quindi è impossibile ottenere una ferita o un taglio. Spero vi sia piaciuto questo video e alla prossima! Ciao ciao! Spero vi sia piaciuto questo video e alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao! Grazie a tutti